L'informazione locale è garanzia di pluralismo informativo ed è un settore fondamentale di occupazione. È la sintesi dell'incontro, organizzato a Roma, tra il presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera, Alessandro Morelli, il componente della stessa commissione, Massimiliano Capitanio, Maurizio Giunco, vicepresidente di Confindustria Radio TV, e Marco Rossignoli, presidente dell'associazione Aeranti Corazzo. In tema televisivo, il governo dovrà affrontare una rivoluzione a partire dal 2022. Con la dismissione di tutti i canali, gli attuali soggetti operanti nel settore dovranno confluire nei pochi canali che resteranno a disposizione complessivamente della televisione, quindi sono necessarie nuove regole che devono essere emanate. Quello che da parte nostra si chiede è di garantire la continuità aziendale per le imprese televisive locali, con regole certe che permettano di passare alle nuove frequenze, alla nuova tecnologia senza interruzioni dei servizi. Al presidente Morelli e dall'onorevole Capitanio abbiamo rappresentato le problematiche che investiranno le televisioni locali a vocazione informativa nei prossimi anni a seguito del riordino e della conseguente riduzione delle risorse frequenziali per fare spazio all'avvento del 5G. Abbiamo chiesto certezze sul futuro del comparto a fronte di una norma del precedente governo che lascia troppe e troppe lacune. Le televisioni locali in Italia fanno il servizio pubblico che spesso la RAI purtroppo in questi anni non è riuscita a fare. Le televisioni locali e tutte le testate giornalistiche locali, quindi anche le radio e i giornali, contribuiscono a creare quel vivaio di giovani giornalisti. Le tv locali molto spesso danno quelle informazioni che i giornali e le testate nazionali non riescono a coprire. Le televisioni locali sono un'assoluta eccellenza dei nostri territori, bene fanno gli imprenditori, gli editori a lavorare su di loro, bene fanno i giornalisti a crescere in queste importanti testate. Noi crediamo fortemente in questo nostro patrimonio italiano, lo vogliamo difendere come fonte di pluralismo e di democrazia e quindi andremo avanti nella nostra battaglia convinta di sostenere con contributi ragionati, quindi la Lega continuerà a sostenere in maniera convinta il ruolo culturale dell'editoria locale sia a livello televisivo, radiofonico che giornalistico.